sul recupero dei vinili. Quando ho iniziato a fare ristampe, si è palesato un problema, perché dice che ristampiamo i dischi, mi sembra facile. Io dico ok, contatto il giornalista che fa l'articolo e tutto quanto, però il risultato sul recupero foto, materiale comunque inedito, non è difficile. Il problema, che non dovrebbe essere, ma in realtà il problema dovrebbe essere il contrario, è recuperare gli elementi base per fare la ristampa, per andare in stampa con il vinile. Per una ristampa con il vinile serve comunque una label copy, che è il documento che serve per la SIAE, dove si serve per i bullini, dove comunque dichiari di chi è la canzone, comunque il diritto dottore, l'editore, chi è per la ripartizione, delle vendite. Quella serve, e quella bene o male ce ne hanno sempre, soprattutto le major, poi serve il master e servono le grafiche. Se il disco è nuovo, chiaramente esce in questi giorni, è facile recuperarlo, nel senso che è tutto, lo si sta lavorando adesso, quindi è perfettamente in linea. È reperibile, cioè non più che reperibile, è fresco, nel senso si fanno le grafiche per il CD e per il vinile. Cioè la label copy c'è, è pronta, la stanno compilando, te la girano, e il master c'è per il CD e per il vinile. Quindi lì è proprio un lavoro di prendere, sistemare un po' l'aspetto grafico, l'aspetto di produzione e tutto quanto, per avere un prodotto fatto bene, mandarlo in stampa, gestire un po' l'apertura del pre-order e la promozione, il giro di mail e tutto quanto, arrivano i dischi, impacchettare, fare le spedizioni, arrivano il distributore, le mettere nei negozi, spedire le copie al gruppo o a chi detiene il master e il lavoro è fatto principalmente. Poi comunque avendo il distributore che ci sceglie tutto, a me fondamentalmente il giorno in cui esce il disco è il giorno in cui ho finito di lavorare su quel disco, perché il giorno primo facciamo le spedizioni, così il giorno dell'uscita la gente lo riceve, le spedizioni quelle che comprono dal nostro sito. E il giorno in cui esce io smetto di pensare a quel disco e penso già al disco che deve uscire dopo. Per le ristampe, che invece dovrebbe essere la cosa più veloce, più pratica, perché il materiale è già esistito e idealmente reperibile, non è così in realtà, perché comunque le major non hanno materiale, nel senso che io lavoro con band, finora per major ho lavorato sui dischi di massimo volume, ICSI e Marlene Kuntz per ora. E anche ho altri dischi in uscita, e di tutti questi sono comunque band che magari per noi possono sembrare conosciute e rinomate, ma in realtà per i numeri che ha una major sono band che hanno in catalogo, ma proprio perché hanno in catalogo. E quindi, poi, sono comunque frutto di diversi trasferimenti, diversi traslochi, diciamo, beh, comunque, non so, parlando di Marlene Kuntz, i massimi volume erano sotto la mesca che è stata comprata dalla EMI, poi la EMI è stata acquisita dalla Universal, quindi già è un gruppo che magari avevano le cose della mesca, dopo già quel primo trasloco ha magari occupato solo il catalogo per avere solo le edizioni, perché magari non avevo l'intenzione di ristampare o fare. Poi, la EMI ha ristampato, però ha fatto tipo il CD, quello con grafica normale, mettendoci due copertine, quindi non aveva la necessità di avere le grafiche originali. e dopo con Universal, quindi diversi traslochi, sicuramente se già poi il titolo in catalogo non è tra quelli che ti interessano di più, è facile che vadano persi, cosa che è successa. Tutti quei dischi lì, bene o male, erano nati persi, quindi avevo solo la level copy, avevo solo la SIAE da fare. Però l'intenzione di farli c'era, cioè avevo la licenza, la puesta di farli, e l'intentore del master mi dava solamente la pratica SIAE da compilare. E quindi la parte anche più stimolante, ma alle volte anche frustrante, l'idea dopo di dire voglio far uscire questo disco, ma mi manca il materiale per farlo. Allora come si fa? La band è chiaramente d'aiuto, perché comunque la band bene o male tiene a se stessa, e quindi al di là di quando ha venduto i diritti sul master, era la major, così bene o male ha un'idea di chi ha fatto la grafica, con chi l'ha curata, insomma, soprattutto band di questo tipo, che comunque hanno sempre avuto una passione, o comunque un'attenzione relativa rispetto alla grafica, comunque dare un certo peso al disco. Loro sanno un po' indirizzarti, provo a sentire il grafico, provo a sentire quell'altro. E succede che spesso, grazie a Dio, si arrivano alle grafiche, dopo lì c'è tutto un altro delirio che si apre, perché le grafiche sono state fatte con i programmi di grafiche degli anni 90, quindi se le apri non si leggono, lo bisogna fare mille situazioni di recupero. Però fino ad ora si è sempre riusciti in qualche modo. L'unica volta è stata con i Marlene Kunz, con Catartica, che c'era la volontà di farlo comunque col libretto dentro, così ma mantenere chiaramente la copertina uguale. Solo che dopo non è stato verso, cioè nessuno sapeva niente di quelle grafiche. Ho sentito il manager di Ferretti, che al tempo era responsabile delle produzioni del consorzio produttori indipendenti, che mi ha proprio detto, guarda, non le troverai mai perché non esistono. Cioè quando ho fatto il vinile io, le avevamo scannerizzate dal CD. Quindi anche se le cerchi non le trovi. Allora in quel caso abbiamo provato in mille modi, abbiamo provato a ricostruirle, chiedendo alla band dove avevano trovato la foto, magari con il font ricostruirla da zero, però mi hanno girato una foto che era strappata, anche tipo in digitale, era praticamente inutilizzabile. Allora in quel caso estremo c'era il ventennale e quindi era giusto fare, dovevamo farlo uscire. Il fatto che fosse proprio il ventennale ci ha aiutato nel dire facciamo un'edizione particolare. Quindi tipo manteniamo il font, un po' la struttura, la questione abbastanza corretta, però facciamo una grafica un po' diversa. Fatalità, un loro caro amico, che era il primo cantante di Marlene Kunz, che adesso li segue in tour così, che è fotografo così, si è offerto, insieme abbiamo creato una copertina diversa e ha funzionato. Poi c'è sempre anche la paura, che magari ristampi un disco storico, cosa succede? Se lo fai diverso, i collezionisti lo prendono come una trovata un po' finta oppure è una cosa sensata. In realtà è stata presa bene, forse in virtù del fatto che era poi limitato, quindi tipo ci stava un po' come particolarità. Probabilmente gente che aveva il vinile originale ha comprato anche questo, i veri appassionati. Però è sempre un po' difficile da capire. Funziona però che alle volte è veramente, è praticamente difficilissimo. È successo l'unica volta che abbiamo dovuto accettare l'idea di stampare il vinile usando come master il CD, quindi non ha molto senso etico, è audiofilo, non ha molto senso. Audiofilo in realtà no, perché comunque io ascolto i vinili da una vita, non mi ritengo un audiofilo, nel senso che non è che dico il vinile colorato si sente peggio, però sono un po' attento e effettivamente è un disco che suona bene, nel senso che se non lo sapessi, se non fosse stato da questa parte, della scrivania non me ne sarei accorto, se avessi comprato semplicemente il disco e ascoltato non me ne sarei accorto del digitale. Perché comunque il vinile, comunque la puntina è tutto, il fatto che un master viene fatto un master un po' diverso, viene sistemato, acquisisce un po' il calore in più che magari il digitale non ha. Quindi non sarà mai come avere il master originale, però siamo salvati all'ultimo. Questa è l'unica situazione per la quale ho detto o non esce o esce così, perché abbiamo provato in mille modi, abbiamo perso un sacco di tempo a cercare di recuperarla, ma non c'era verso, è andato perso e non c'era niente da fare. Quindi sì, è stato l'unica pecca, diciamo, nei vari dischi che abbiamo fatto. Dopo dico, ultimamente il vinile esce e quando esce adesso, chiaramente la maggior parte registra in digitale, quindi comunque il master alla fine viene fatto per vinile, quindi suona sicuramente bene. Il vinile parte da un master fatto apposta per il formato, quindi i vinili che facciamo suonano bene, e ne sono convinto, però non è come un tempo dove comunque abbiamo fatto tutto su un astro, preso proprio la bobina, messo su vinile e tutto un altro tipo di realtà. Il vero è che comunque sappiamo che con il digitale comunque le possibilità sono veramente enormi, quindi ci siamo molto avvicinati a una situazione di qualità, di suono migliore, però è anche vero che al giorno d'oggi c'è sia la qualità del suono che anche la voglia di prendersi vinile per una questione che secondo me è proprio di rallentare o comunque di godersi un po' la situazione. Quindi diciamo che quella pecca lì è l'unico neo che ci siamo concessi, perché comunque è preferibile, abbiamo deciso che era preferibile avere un disco magari che di cui noi spevamo un po' la contraffazione iniziale piuttosto che non averlo, perché comunque adesso comunque una persona può, cioè c'è gente che si è fatta tutta la collezione di Massimo Lume in vinile, quindi ci può anche stare, è un compromesso, probabilmente funziona così, cioè è funzionato così. Un problema invece del vinile che volevo affrontare è che è un formato difficile su tutti i punti di vista. Tutti quelli che abbiamo visto prima, dallo stabilire, dal cercare di capire come a livello di mercato, come posizionarlo, come fare i numeri, la spedizione, comunque anche spedire un vinile, cioè la gente che compra, comunque ci vuole le scatole apposta, costa molto di più spedire, perché non è un cd, quindi bisogna spedirlo come pacco, che costa 7 euro, cioè è complesso. Poi anche gestire un magazzino di vinili ci vuole più spazio, ci vuole più spazio per un premio di manovra. Quando arrivano, non so, a noi magari capita che ordiniamo 500 coppie, o anche 1000, però dobbiamo andare 200 in un posto, 300 in un sito, non conviene far arrivare al distributore, cosa che facciamo usualmente. Ti facciamo arrivare, non è da un nostro amico che ha un'ufficina, facciamo arrivare lì e però 1000 vinili sono tre bancai di dischi, quindi muletto, una roba esposta, apri, contali, cioè è molto molto più impegnativo. Quindi c'è tutta questa serie di problematiche da affrontare che aumentano la gratificazione iniziale, nel senso che quando io prendo in mano un vinile che ho fatto io, chiaramente mi dà molta più soddisfazione per tutti questi aspetti, però sono effettivamente delle problematiche. E un'altra problematica è sulla tempistica, perché? Perché è collegata alla questione di numeri, il vinile c'è, è tornato, ma è tornato di modo, comunque è tornato a vivere, però a numeri comunque sempre particolari, quindi non ci sono tantissime case che producono vinili, che stampano vinili. Io la maggior parte dei vinili che faccio li faccio stampare in Germania, per una scelta di qualità, perché mi hanno informato al tempo, all'inizio la mia idea era poi quella di fare un'etichetta che facesse i vinili di qualità, e credo che la cosa mi abbia stato anche ripagato di questa scelta, e quindi mi hanno informato e stampo dove stampano le più grosse etichette europee, ed è in Germania. Questo però per me è un problema, perché primo, non posso scaricare l'IVA dalla cosa, quindi a livello proprio prettamente finanziario è comunque una, non è vantaggioso, però vabbè, si affronta, e un altro problema è che, essendo molto molto bravi da stampare, essendo tornato in piccole forme, di vinili, cioè io realtà italiana gli do comunque 500 barra 1000 dischi al mese, e io, quindi pensiamo a altre realtà italiane, tutte le realtà Nord Europa e America, America non ha stampatori là, comunque tutta l'Europa fa il meno male riferimento a loro, e sono cresciute tantissime piccole realtà, quindi quando prima erano magari quelle X realtà che mandavano in stampa, c'era lo stampatore che si era settato su quei numeri, pian piano tantissime piccole realtà mandano in stampa i vinili e sono trovati con un sovraccarico fondamentalmente di produzione, allora questo qualche anno fa ci avevano avvisato che avevano comprato altri macchinari e avevano un potere di produzione maggiore, ora è aumentato ancora di più, quindi in questo momento le tempi di attesa sono enormi stampandoli lì in Germania, si parla di un mese, cioè quattro settimane praticamente lavorative e nel momento in cui confermano le grafiche, confermano le grafiche e van bene, il master ce l'hanno e sanno che gli stanno arrivando i bollini sia su e ci vuole un mese da quel momento lì senza test press, cioè il test press è quando tipo mandi sul disco col master ti mandano la white label la chiamano che è un vinilo, due vinili ti mandano col centrino bianco tu lo ascolti vedi se è tutto bene se non frigge se le cose van bene se va bene gli dici ok proseguite con la stampa degli altri 500 tutti i 500 o 1000 cioè proseguite con tutta la produzione e in alcuni dischi io mi fido chiaramente sono al 56esimo vinile che faccio con loro quindi all'inizio lo facevo poi visto i tempi di atteso tutto quanto alcuni vinili che ho iniziato a fare ultimamente per riuscire a starci dentro quei tempi ho iniziato a farli senza il test press è un rischio infatti ogni volta che arrivo però mi fido le statistiche aiutano ad essere tranquilli è un rischio perché quando arriva arrivano i dischi io ho da guardare se le grafiche van bene se non sono stati fatti errori di stampa proprio della copertina poi e dopo rimane il secondo problema che è ascoltare il disco soprattutto quando ho come questo mese e mezzo sette produzioni in ballo loro hanno sempre richiedono sempre la label copy dove si è scritto per ogni lato che canzone c'è e la durata così fanno un controllo però vi confesso che la paranoia di quando prendo il disco dal corriere e torno a casa e lo metto su la paranoia che parta non so se il disco del Marlene Kunz parte dal disco dei Pan del Diavolo c'è anche perché se dovesse essere così è un problema perché comunque tu ti assumi la responsabilità non è che dici avete sbagliato rifateli in più hai tempi di attesa cioè è un problema non è mai successo quindi per ora non vi posso lamentare però questo io non vorrei farlo però inizia a essere indispensabile perché comunque succede che da una parte c'è tutta questa frenesia del mercato discografico quindi bisogna assolutamente addirittura mi trovo veramente a parlare con gruppi che conosco che mi dicono guarda il disco esce a maggio io magari li sto parlando il 15 aprile e faccio ma a che punto siete ma siamo in studio stiamo finendo di registrare faccio come cazzo se esce a maggio cioè il master è pronto tra due settimane e va minchia però se io ragiono sui miei tempistiche è fuori di testa non ce la facciamo un tempo era così anche per i cd cioè non così lungo però i primi disci che fate uscire con Tempeste il penultimo disco di Zen Circus o il tra i ragazzi morti c'era abbastanza ci riuscivamo a starci io mi facevo delle notti in bianco però magari riuscivamo ad uscire lo stesso giorno con il cd e vinile uscire lo stesso giorno adesso si fa più fatica ci fa fatica perché con il cd è tutto velocissimo perché comunque cioè soprattutto digitale il cd fanno in fretta e soprattutto non hanno le band le band piace avere il vinile ma non sono piace perché è un formato in più che hanno è una sciccheria in più ma non sono affezionati al vinile nessuno di quelli che ho fatto i Fossi Calibro e pochi altri tutti gli altri non sono affezionati al vinile lo vogliono avere se possibile perché è interessante è bello averci consacrano ancora di più il disco che hai fatto ma non è che si curano tanto della questione della produzione quindi non capisco nemmeno l'esigenza di dire ci servono i dischi entro quel giorno cioè se servono le grafiche entro quel giorno il master dov'è muovetevi perché ci vuole bisogna aspettare e quindi mi trovo sempre ad avere la maggior parte cioè il materiale alla fine cioè dopo all'ultimo nell'ultimo periodo dopo al tempo risicatissimo e arrivare a quei dischi sempre ultimamente due settimane dopo quindi si fissa la data di solito il mese successivo non è è un problema enorme cioè di forma sarebbe più bello uscire tutti tutti insieme chiaramente cosa che è successa nella pratica non è un problema a noi la cosa che interessa di più è che esca prima del tour fondamentalmente perché comunque quello aiuta a vendere e comunque se il disco esce bene o male si consacra cioè comunque viene recensito inizia a girare quindi una volta che si procede tipo mi viene data la notizia che esiste anche il vinile comunque la gente già conosce di su quindi non è un grosso problema è più un problema a monte proprio sul fatto delle tempistiche diverse quello è è un po' bisogna un po' starci attenti insomma è un po' un po' e cos'altro beh se avete domande intanto io penso a cos'altro raccontarvi fatto così chiaro sono stato no stavo pensando sì quella questione delle tempistiche cioè ecco per fare un po' un quadro la situazione è questa la situazione cioè il vinile sì è tornato e c'è e io sono la prova nel senso che comunque lavoro ne ho e tanto però già il fatto che io abbia tanto lavoro significa che è tornato con dei numeri non troppo interessanti perché comunque altrimenti tutte le etichette ce lo farebbero autonomamente quindi già il fatto che sia io a farlo è una prova del fatto che sia un po' il catalizzatore della produzione di vinili è la prova che è tornato con numeri tranquilli diciamo e soprattutto questo comporta un'attenzione grossa sul tipo di tiratura quindi non si può sbagliare e quindi è sempre meglio sottostimare purtroppo un disco cosa che non andrebbe fatta ma è meglio sottostimarlo che trovarsi con copia in più perché hanno un prezzo molto elevato le garanzie che poi se voi avete una band e avete intenzione di farvi un vinile la prima cosa che il primo segnale che vi può aiutare per capire se è fattibile come progetto se è fallimentare è di capire quante date quanti concerti avete effettivamente e dovete averne tanti perché comunque è facile pensare sia tanto il vinile ad esempio viene a pensare l'ultimo disco del teatro di orrore che è stato aspettato atteso pubblicizzato ovunque poi là uno potrebbe immaginare chissà quanta copia in vinile siamo sulle 700 600 700 che comunque per quanto è stato ok a mio avviso non è un bellissimo disco però i numeri diciamo sono quelli sforano si sfora con i calibro tipo con sulle 1000 1500 qualcosa 1500 1300 e con attualmente con i massimi numeri siamo sulle 1000 e il top credo che lo raggiungerà con queste distampe di pop anni 90 che è il prossimo che facciamo uscire che è il fastidio di caos la prima stampa è sulle 1500 copie e credo che andrà via in fretta anche perché al tempo non è neanche mai uscito in vinile quindi anche tutti gli affezionati del tempo probabilmente lo acquisteranno insomma quindi questa è la realtà insomma in Italia perché comunque è particolare io ne giovo del fatto che sia così perché comunque mi diverte il lavoro ce n'è però è particolare a una situazione italiana fondamentalmente perché in tutto il resto del soprattutto in Europa Nord Europa Inghilterra e America è completamente diverso nel senso che i numeri sono completamente diversi le etichette si fanno anche il vinile il vinile esiste funziona lì esiste lì esiste veramente e quindi mi trovo veramente ad aver gestire tanti numeri tanti piccoli numeri questa è la realtà del mercato discografico su questo formato quindi è molto bello è molto interessante che sia tornato è anche inevitabile Scrumable comunque io credo che rimarrà non lo vedo come una una moda diciamo sì sicuramente ha del trendy mettiamola così però non la vedo come una cosa passeggera nel senso perché diciamo che la musica liquida di cui io comunque faccio uso faccio largo uso nel senso che è comoda e perché no questo ha comportato cioè tutti tantissime persone ascoltano la musica digitale ormai quindi chi veramente vuole acquistare vuole avere una sua collezione a casa avere una un disco averlo toccarlo e sentirlo è più facile di compiere il vinile perché comunque il cd è un antenato il padre della musica digitale quindi piuttosto il cd uno si ascolta su spotify la musica o si ascolta su sul web insomma invece in virtù di questo cioè il formato che secondo me può rimanere proprio quello più intimo più grosso più c'è se uno si compra un vinile ti compra il vinile cioè ce l'hai in mano e 33 cm insomma è importante poi se poi li metti con il libretto dentro quando ti rifogli i vinili poi non è una cosa che presti ha prestine vinile che uno ascolta è molto è molto intima cioè una volta sì adesso è più una cosa che uno si compra io faccio così ad esempio cioè io tipo esce il disco nuovo chiaramente la curiosità è la prima che va deve essere sfamata e chiaramente me lo ascolto nel streaming quando c'è magari me lo ascolto su spotify poi il disco mi piace l'ordine di venire perché come se dicessi ok di tutti i dischi che sto ascoltando questi mi sono piaciuti e questi ce li ho e mi rimarranno perché la sera quando torno a casa magari non c'ho voglia di stare lì a fare zapping su spotify e mi ascolto i dischi quelli che ho voluto quindi credo mi ritengo sì un appassionato ma non cioè non dei più dei più accaniti quindi vedendo un po' come va mi sembra che il tutto digitale abbia sì risistemato ridimensionato il mercato isografico e e questo sia un po' l'assestamento che andrà avanti poi un po' poi i prossimi anni quindi tipo un calo dei cd però è anche vero che il cd rimane comunque un formato di punta nel senso che di solito sui cd il rapporto è che su 5.000 di solito quando una band che faccio uscire in vinile vende 5.000 cd noi ne vendiamo 500 vinili qualcosa di più eh sì all'incirca ma in questo senso non è dovuto anche alla tecnologia insomma cioè le perive più in modo più difficili e più di rischio sì anche è vero sì infatti una domanda una delle più molte domande se una delle domande infatti più frequenti che mi fanno amici o comunque gente che mi conosce proprio legato al fatto che sanno che è pubblico vinili e tutto quanto è proprio il ma scusate ma se dovessi coprire i rischi dove vado quindi sì può essere che sia anche quello e comunque sì forse anche è un po' più veloce cioè il cd comunque è soprattutto una generazione magari fine 70 così che ha già fatto lo scatto o comunque soprattutto anche nella classica tipo che magari partiva in vinile proprio da quando ha avuto il cd la gente si è abituata a quella ed è quella si è abituata a quel formato nel senso che adesso tornare indietro non è né quel gusto un po' trend di dire torno all'avvenile né quella passione cioè è come se fosse stabilizzata su quel tipo di passione poi magari in macchina magari hanno ancora il lettore cd insomma sono abituati a quello quindi anche per abitudine comprono il cd non hanno magari né l'interesse la voglia di appassionarsi a programmi di fruizione musicale digitale liquida né situazioni né voglia di mai rimanere tessing il giardischi comprare anche perché comunque sì i vinili funzionano perché comunque c'è anche tanta vendita online cioè nel senso perché comunque i negozi online funzionano cioè ad esempio la Verona dove sono io se volessi comprami un vinile avrei due posti dove andare ci hanno un banchettino risicato cioè l'unica soluzione che io per comprami dischi mi interessano è comunque Amazon o comunque oppure dei negozi di dischi online che è quello che di Londra che conosco dalla vita e su cui faccio affidamento quindi sì c'è una serie di situazioni un po' anche di acquisto cioè il cd bene o male lo trovi abbastanza facilmente se non lo trovi vai con il digitale quindi sì le vedrai abbastanza abbastanza possibile come problematica tecnologica un'altra cosa voglio dirvi è che il vinile che è un problema che stiamo cioè che succede spesso che c'è un'altra problematica è appunto la durata perché comunque se metti il disco in digitale può durare può avere 40 canzoni che lo butti su e basta non è un problema il cd tiene tantissimi minuti il vinile il singolo vinile per avere un suono che 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 sia degno del punto del vinile che sia un suono di qualità e strutturato in un certo modo e non deve facendolo girare a 33 giri quindi calibato su 33 giri non deve superare i 21 minuti dell'altro può anche arrivare a 24 non succede niente però ecco meglio se è già 28 minuti all'altro è un po' un problema quindi quindi ci sono delle situazioni per le quali magari c'è sempre un po' la paura perché magari senti il gruppo che il disco prima l'ha fatto in ha venduto 500 copie ma non subito ci ha messo un po' però è andata abbastanza bene sono rimaste una cinquantina in magazzino 100 in magazzino quindi vuol dire che è andata abbastanza bene ci hanno ripagati tutto abbiamo guadagnato qualcosa e quello ti dice però neanche il disco di punta che dici ok il prossimo lo facciamo investendoci anche più soldi perché siamo sicuri che lo vendi cioè bisogna stare un po' attenti e ti dice guarda stiamo facendo il disco però siamo in studio stiamo mixando la quindicesima canzone dice ah cazzo la quindicesima canzone qua sforiamo i tempi cioè sforiamo e come si fa dopo perché comunque un doppio vinile ha chiaramente un costo di produzione più alto non come due vinili però è sicuramente un 50% in più diciamo del costo di un vinile singolo e quindi c'è questa problematica anche cosa si fa e quindi succede che chiaramente se il gruppo è un gruppo che ti dà delle garanzie tipo se c'essero un doppio vinile dei vediamo dei punto dei colli del fomento che era un doppio vinile invece su uno nuovo lo farai in doppio vinile senza problemi perché so che che va però un altro gruppo che dice facciamo il doppio vinile inizia a essere un problema anzi inizia a essere un deterrente di dire no è difficile cosa fai fai un risuolo con delle canzoni in meno è successo solo una volta abbiamo fatto un disco di un gruppo hardcore diciamo che sforava di un po' e abbiamo deciso di togliere una taccia strumentale che diciamo beh ci può anche stare insomma che comunque il vinile in teoria poi di varia perché alcune volte magari il disco dura dura non il giusto però per le tradizioni in vinile ci mette la taccia in più cioè ci sono varie situazioni che si possono che si possono creare però quella della durata è un po' alle volte un po' è un altro un altro elemento a cui bisogna fare affidamento bisogna fare bisogna parlare in considerazione vero è che dove stampo io il motivo è appunto non è vantaggioso a livello di business chiamolo così però aiuta per la qualità è appunto il fatto che su alcuni dischi che hanno una sforno come durata hanno si riesce cioè loro riescono comunque a crearti un vinile che suona bene è successo con il box di CSI che c'erano dei dischi tre dischi su cinque c'erano tre vinili singoli e due doppi originalmente al tempo erano usciti così tre vinili singoli e due doppi io prima ho già aperto ho sparato con un missile e ho aperto la raccolta fondi e tutto quanto abbiamo già raggiunto l'obiettivo sopra andare in produzione mi viene in mente di guardare la durata proprio lì mi rendo conto che sono tutti anche quei tre singoli erano da fare in doppio però ormai la raccolta fondi è stata fatta calibrata su tre singoli e due doppi e soprattutto era comunque impensabile fare un box di cinque vinili tutti doppi cioè dieci vinili dentro il prezzo sarebbe andato alle stelle e il rischio di fallimento dell'operazione era molto alto e quindi mi ho deciso ho detto proviamo insomma siccome è su in Germania solo una volta l'avevo sforato un po' con quella tempistica ma ho fatto un lavoro ottimo che non ho neanche accorto che suonava e quando dura tanto la cosa che senti che friggio è un po' distorto senti che è leggermente distorto lì sentiva benissimo ho detto vabbè teniamo visto che è una ristampa teniamo proprio la ristampa come era stata pensata quindi cioè la grafica è quella chiaramente è adattata è sistemata però stiamo sul prendiamo questa idea di fare un vinile cioè di fare una ristampa fatta come si deve quindi rispecchiamo tutti i crismi del tempo cioè proprio tutti i canoni anche estetici di scelta del tempo e sfruttiamo questa 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 quest'idea per giocarci con questi dischi singoli cioè dopo la durata di un vinile singolo e infatti l'ha fatto così è andato bene cioè i dischi si sentono bene nessuno si è lamentato l'ho sentito io lì avevo fatto i test press e l'ho ascoltato con molta attenzione perché mi spiegava fare un lavoro tutto così curato e poi magari i dischi che comunque senti che un po' non sono cioè quando durano tanto devono abbassare cioè il master volume è più basso quindi tipo vi accorgete se un disco dura tanto adesso un vinile singolo quindi i suoi che sono molto avvicinati quando leggermente distorto e se con gli altri dischi sei a metà a metà volume senti alto quello sei a un quarto no quello sei di più sei di più perché è più basso questo invece lì è tutta una questione se l'ha sentito tutto a posto diciamo e quindi però ecco questo è un piccolo aneddoto per raccontare appunto le varie problematiche perché comunque c'è un motivo per il quale in Italia molte etichette non se lo fanno oppure lo fanno solo se hanno voglia e il disco gli consente cioè è un disco che gli consente di dire ma sì dai facciamo anche perché comunque magari sono etichette che lavorano anche su edizioni su master su tutto il disco e a loro nel momento in cui va bene riescono a a farlo le major invece sono ancora in una questione di numeri che non interessano di uscite vecchie cioè non metterbbero mai in questo momento una persona a dire ristampo i dischi di Verdena piuttosto le licenze se ne a me si prendono comunque una parte di soldi senza saltare un dito il lavoro lo faccio io e gli va bene così vero è che il nuovo disco di Verdena probabilmente lo farà Universal come Hai paura del buio degli After Hours l'edizione inizialmente dovevo farlo io poi chiaramente hanno detto non è una ristampa vecchia è un disco che esce nuovo con delle tracce rifatte con tutti gli artisti internazionali fanno un tour dedicato è come fosse un disco nuovo degli After Hours quindi lo facciamo lo facciamo noi e la Sony i dischi nuovi se li fa questo si se li fa tutti loro se la fanno lei mi le affidava a me però adesso è entrata in Universal quindi di base adesso sono Universal Warner qualcosa fa ma molto rilento però non ho titoli che mi interessano momento sotto Warner la Sony li fa non ho mai visto la qualità di come vengono fatti ma li fa la qualità dei dischi di Universal che ho visto io è inferiore perché comunque chiaramente giocano molto più su sull'aspetto del ricavo guadagno che c'è dell'investimento guadagno essendo comunque azienda grossa e quindi non stare mai come me a dire mi interessa che la carta sia fatta in un certo modo che il disco si suoni così che c'è tutta un'attenzione ai particolari è più chiaramente un investimento guadagno quindi ho visto ho sentito comunque dischi che non so non sarei stato felice di avere sì non sono così maniacale però se posso preferisco investireci qualcosa di più e farli meglio quindi questa è un po' anche la questione delle major chiaro che come dicevo all'inizio è sempre un gioco particolare perché comunque se va bene il gioco lo tolgono a me cioè io devo sempre infatti c'è questa particolarità che magari come diceva prima il vostro amico perché non ristampi non so il disco di massimo volume potrei perché comunque 500 in una settimana cioè finiti tutti e andare in ristampa potrei tranquillamente perché almeno altre 300 le venderei tranquille o anche altre 500 però ho sempre quel che dire se gli chiedo gli faccio ah guarda ho finito tutte le altre copie una settimana gli faccio altre 500 a quell'altro gli faccio un secondo perché magari iniziano ad essere i numeri che mi interessano e quindi c'è sempre questa cosa tipo quando mi interfaccio con loro magari che conosco il mio referente ora c'è sempre questo ascolta non è che magari potrei fare non so il vinile di Marlene Kunz adesso devo ancora capire se 300 metto 500 copie perché non so ho paura che la gioco così quando so per certo che 500 vanno via in un giorno però direi metto come se fosse una cosa tipo un po' un rischio capito perché se inizio a dolore a dirgli guarda mi fai fare il disco di che ne so il nuovo disco di Verdena però guarda ne stampo 2000 copie perché vanno via in un giorno è chiaro che mi dicono ascolta sai cosa c'è me le faccio grazie di tutto me le faccio io quindi c'è sempre questo gioco poi fanno anche sul sito comunque su facebook così nei canali io per convenienza devo scrivere copie esaurite comunque c'è copie limited quelle colorate esaurite devo metterle se no la gente continua a scrivere ce ne sono ancora posso ordinarle ma tanta gente comunque c'è l'interesse io comunque per convenienza e per praticità devo mettere l'annuncio sold out delle copie solo che ogni volta che l'ho posto ho sempre quella sensazione di dire cosa facciamo lo postiamo o non lo postiamo però alla fine comunque anche fossero mille copie sono comunque numeri che difficilmente interessano interessano tanto a me si però comunque mi sta bene però è questa la particolarità di questo lavoro è questa che comunque questo è sempre altro commerciale comunque commerciante mettiamola così il sogno è quello di venderli più possibile cioè arrivare come il mio caso da 500 arrivare a vendere 20.000 copie cioè è quello il mio sogno cioè ovviamente il sogno nell'utopia più totale però esatto e invece il quello il mio sogno è la mia rovina quindi al tempo stesso quella è la cosa la cosa particolare ed è il motivo anche per il quale io sto cercando una un'operazione che stiamo facendo durante questo è da qualche mese ci siamo sotto e principale l'estate per finirla e poi a settembre la lanceremo stiamo sistemando il sito stiamo facendo un sito nuovo che praticamente cogliamo l'idea di essere vista come etichetta clavinini in Italia e sfruttare questa cosa per ci siamo che ci siamo accorti di quando mettiamo il disco dei massimo volume in prevendita che aumentano anche la mente di tutti gli altri perché uno dice cavoli hanno un sacco di dischi beh comunque abbiamo una gamma cioè per essere comunque un'etichetta di 4 anni 4 anni e mezzo e sono tanti dischi e e quindi tipo acquistano fanno acquisti collettivi nel senso tipo compro il massimo volume più molti altri quindi comunque è pratica come cosa capita anche a me andare in un sito e dire appena mi compro il stesso qua anche quell'altro chiaro che se li trovo tutti e due nel stesso sito li compro lo stesso sito più che farmi prima Amazon poi un altro e pagare spedizione e quindi siccome si sta creando tutto un network di gente che ci segue sempre comunque quelle centinaia di persone che ormai quando spediamo i dischi conosco i nomi di ciascuno praticamente e e quindi l'idea che abbiamo è proprio quella di creare un sito che sia proprio un e-commerce un negozio online un po' dedicato al vinile o comunque alla musica italiana in vinile e chiaro sono dentro anche quei pochi cd che abbiamo fatto per catalogo nostro però ci sono nel senso le abbiamo stiamo creando questa cosa proprio per l'idea di dire anche la reperibilità nel senso se noi buttiamo fuori il disco dei Verdena però nello stesso tempo l'universa butta fuori il nuovo disco del che ne so le luci della centrale elettrica in vinile le mettiamo le acquistiamo delle copie e le vendiamo anche noi così gli affezionati nostri le comprono da noi e quindi creiamo un negozio con produzioni nostre e anche tramite questo network di gente che stiamo creando appassionati di vinile diventare un punto di riferimento per chi vuole acquistare musica in vinile perché mi trovo alle volte di dire tipo gente che mi scrive ma il nuovo disco città elettrica hai fatto voi dove le posso trovare non lo so ma si dire la major che l'ha curato quindi magari anziché di quella risposta farsi dare tot copie metterle metterle da parte cioè metterle nel negozio e fare 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 la vendita collettiva ci può tornare utile nel senso diventa una cosa magari aiuta comunque nel circuito dell'etichetta a farla crescere a svilupparla insomma quindi a prestare di fare altri dischi e staremo a vedere l'idea futura di come sarà io credo comunque cioè al momento se i numeri fossero aumentati i giochi sarebbero già cambiati perché vedo che comunque tutti i dischi nuovi bene o male li stiamo facendo e potremmo farli anche di altri titoli però chiaramente dobbiamo mantenere sempre una sorta di forma un po' non dico non underground però un po' alternativa anche se la parola è quello che è e mi è stato proposto di fare poi è molto particolare cioè non è tutto scontato nel senso che mi è stato proposto di fare delle stampe di dischi di Paolo Conte che a me piace molto quindi mi è stato perché no potrebbe essere un'idea e soprattutto magari i primi dischi comunque i primi dischi sarebbe bello averli in vinile solo che dopo fai una piccola ricerca ti informi un attimo e scopri che in realtà sono dischi che sono usciti in un periodo dove le copie in vinile hanno tante cioè ne hanno stavate tanti vinili quindi sono tanti in giro e quindi non c'è richiesta quindi magari mi trovo ad avere 500 copie nuove può aver senso stiamo ancora valutando l'idea di dire sì una persona un ragazzo giovane che si è approcciato la musica su vinile da poco può dire magari me la l'acquisto è più facile rimpacchettato nuovo con celofanato nel negozio fa più gola che per un ragazzo magari giovane che si è appena approcciato che prendere il computer e fare la ricerca o andare nei mercatini cercare vedere che edizione è che non costi molto comprarlo quindi è un po' quello che è successo con i CSI bene o male le copie nei mercatini si trovavano è stato un po' un rischio per questo ha fatto anche la raccolta fondi perché non avevo la certezza come il massimo volume che c'era richiesta perché non erano mai usciti e si trovavano però comunque il fatto che uno dice mi compro il box impacchettato nuovo sistemato non devo più pensare a niente perché ce li ho messi da parte è stata un po' la cosa vincente cioè la cosa che ci ha aiutato a vendere le copie questo però per dire che non è così scontato il venderle io mi ricordo che quando parlavo prima dell'uscita di CSI che avevo preso un po' paura perché prima di lanciare la raccolta fondi e tutto avevo la o meno l'ho sentito al telefono sempre con il manager di Ferretti che mi ha detto si guarda una bella idea facciamola e mi ha detto mi ricordo mi ricordo fa il tempo ma fa sì comunque secondo me va mia in fretta anche se mi ricordo che al tempo fa io la tabula rasa terrificata non farei oltre al box delle stampe i vinili singoli perché al tempo avevano fatto 400 box e dopo dei vinili sparsi tipo la prima stampa erano 400 box numerati a mano e 100 di ogni titolo di titoli singoli e mi ricordo che mi disse da tabula rasa terrificata non so se farei copie in più perché mi ricordo al tempo quando è uscito nel 98 97 98 che tra l'altro era un momento probabilmente quel periodo storico in cui il vinile già era non più considerato però comunque mi ha detto che al tempo avevano adesso non so poi se si ricorda varia se ricordava male o cosa però avevano avuto 15.000 copie di vinile 15.000 copie di vinile sono un numero folle a pensare adesso non c'è neanche pensare mi raccontava di quando è arrivato in magazzino il camion di Bartolini pieno pieno di dischi praticamente è strano per questo io dico sì è tornato ma come è tornato cioè è tornato in maniera molto timida molto modesta estremamente modesta è il motivo per il quale a me sta anche bene c'è questa questa soluzione quindi questo è un po' un po' l'excursus della situazione che sto vivendo questo è il centrialbum dei C6 non è un album che è scurdo sì sono tre ufficiali e c'è Inquiete e La terra e la guerra è una questione privata che sono due live perché però sono stati considerati come album ufficiali e sono quelli i doppi i doppi sono quelli esatto i dischi opi ufficiali proprio quelli con canzoni inedite in studio sono quei due lì quei tre lì sono quei tre Code Mondo Linea Gotica e Tabola Elettrificata durano tanto ah tra l'altro Inquiete non è mai uscito in vinile Inquiete è stata la prima volta e questo ci dava un po' valore all'idea di dire facciamo il box perché magari siccome c'è tanta gente molto molto appassionata a ICSI hanno una fanbase molto molto robusta ho detto magari insomma non è mai uscito in vinile o comunque era uscito però in un vinile proprio fatto proprio con copertina diversa proprio in pochissime copie però mai proprio pubblicato in negozi in vinile l'abbiamo messo nel box chiaramente quindi anche con la speranza di venderlo facilmente insomma e quello è stato per mantenere i costi era uno di quelli non ho neanche considerato la nulla durata come quegli altri solo che ci sono trovato alla fine che ho già fatto la raccolta fondi e tutto che ho visto gli altri cioè sono sbiancato ho visto che duravano tutti tantissimo i dischi ho detto ok vabbè quei tre lì originalmente erano usciti in quel formato e quindi li manteniamo li manteniamo in quel formato e ci saliamo in questo modo Inquiete però dura più di 60 minuti quindi era proprio una follia farlo in vinile singolo e in più la scelta era mia nel senso perché comunque non ho mai uscito in vinile avevo detto comunicazione a tutti vi comunichiamo che ha la stessa cifra tutto quanto che avete pagato in Quiete non sarà vinile singolo ma sarà doppio quindi la gente comunque era contenta è stata un'operazione che non ha fatto perdere chissà cosa però sì è un diso che dura tanto sono due live quelli l'altare alla guerra una questione privata era già doppio questo qua non poteva non esserlo quindi non aveva potuto risolvere la questione quindi andata bene così a me piace molto fare i doppi vinili però c'è sempre questo calcolo al limite che bisogna sempre stare tanto attenti quindi sarebbero tante cose da provare da sperimentare a fare adesso ho iniziato a lavorare con un gruppo reg però tipo che gira il mondo poi c'è la data ovunque è molto molto famoso cioè in quel genere lì è molto molto rispettato e considerato però ho detto ok facciamolo poi prendiamolo come cartina cioè proviamo a fare il vinile proviamolo come cartina torna sole vediamo cosa succede però chiaramente ha fatto 300 copie suonate tutte bene suonate benissimo e adesso stampiamo anche il disco che hanno fatto prima solita tecnica cioè magari si inizia a lavorare con un gruppo nel momento del nuovo disco se la cosa va bene si torna anche a fare i dischi precedenti perché si pensa che chiaramente uno che ha appassionato l'ultimo disco torna anche indietro con l'acquisto e e con loro sarebbe anche mille cioè sarebbero anche tantissime altre situazioni da provare tipo in quel mondo lì magari provare a fare i vini di singoli con il singolo dub solo inciso solo da un lato per i dj che comunque c'è tantissimo giro di quella di quella di quella cosa lì però cioè è molto molto rischioso perché comunque bisogna fare conto con tutte le cose che ho detto più con la cultura in cui viviamo insomma in Italia che magari è più affezionata a un circuito di musica più godereccio che di intimità d'ascolto quindi più piano insomma la mia idea è quella di comunque cercare di creare una sorta di punto di riferimento sempre di più nell'acquisto dell'edinile cioè dire ok in Italia funziona così funziona che c'è un'etichetta che stampa molti che siamo noi più le major che cosa fanno più altre etichette che fanno raccogliamo tutto in questa realtà in questo sito che magari curiamo che può essere che sarà il nostro per cercare appunto di una persona di una sorta di vinile a un punto di riferimento e poi insomma magari questo può aiutare se è un progetto molto ambizioso che stanno provando a fare può aiutare magari a creare una sorta di interesse di sviluppare una 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 non lo so sviluppare un'attenzione culturale diversa o agevolare la reperibilità di alcuni contenuti e di alcuni formati che di per sé sono contenuti che che intrinsicamente hanno una una valenza appunto intima emotiva perché diversamente da da cioè come se esistesse iTunes Store Spotify e così e magari un sito dedicato alla musica italiana in vinile pian piano è una cosa molto ambiziosa non so neanche se mai si riuscirà però visto come stanno adesso sarebbe sciocco non provarci insomma quindi vediamo insomma questo è un po' i progetti futuri e poi c'è comunque l'anomalia della mia etichetta proprio quel punto di essere di formato ma sì è anche vero che mi trovo con un catalogo artisti che non avrei mai potuto permettermi cioè è impensabile cioè artisti condivisi da tante altre etichette però sono tanti cioè tipo se io scorro quando guardo l'etichetta guardo il sito e vedo tipo scorro i nomi degli artisti dell'etichetta cioè non ci credo tre anni fa se mi sono detto guarda con che gruppo stai lavorando tra tre anni non ce l'hai mai creduto ma perché? perché proprio questa funzione qua cioè comunque io sono un aiutante diciamo una realtà che aiuta il la band nel crearsi appunto la versione in vinile un feticio in più cosa che se io avessi dovuto investire a livello di disco produzione promozione agenzie tutto quanto per ogni disco non ce l'hai mai arrivato ad avere tutti questi gruppi comunque è impensabile quindi comunque sfruttare anche i vari fan di tutti i gruppi che comunque ruotano attorno soprattutto adesso anche grazie a questa cosa ho un potere di non acquisto brutto da dire ho un potere di convincimento comunque di mi interessa un disco e se mi faccio avanti è molto probabile che riesca a farlo chiaro a me non è sicuro però comunque un gruppo può dire mi sta bene nel senso il vinile questa etichetta la mia etichetta non me lo fa o comunque me lo fa magari mai volentieri me lo fanno loro così il mio nome comunque gira con alcuni gruppi famosi e di riflesso viene conosciuto quindi anche lì c'è tutta una questione particolare nel senso di aiuto di un'anomalia che può tornare utile su punto che è già utile adesso può incrementare l'aiuto nel creare appunto questo network di appassionanti o comunque di questo negozio dedicato insomma e basta questo è un po' tutte le mie esperienze diciamo che ho stavendo in questi anni è un'avventura molto bella molto molto bella mi dà molte soddisfazioni è frustrante per i motivi che ho detto ovviamente non godrei tutte queste soddisfazioni se non avessi anche la parte di di frustrazione o comunque di impegno comunque si alle volte ti scontri proprio con come vorresti che andassero le cose e e basta quindi è in crescita e comunque ogni anno sta andando meglio ma credo che o svoltiamo appunto in questo negozio diciamo questa idea di collettività oppure starà già raggiungendo il massimo quei motivi che ho detto perché comunque dischi ce ne saranno sempre da far uscire e finché i numeri sono questi immagino io che la realtà possa rimanere in mano nostra in questo momento a meno che la gente non sa passione inizia a l'etichetta a farsi di loro però è anche vero che ci vuole tanto tempo cioè bisogna proprio imparare questo tipo di distribuzione e produzione perché comunque appunto spese di spedizione alte il costo di fare i pacchi spedire è brigoso cioè gestire i vinili come prodotto anche non è facile cioè non è facile si non parliamo di cose impossibili è più facile rispetto alla gestione del cd come il cd e il vinile non hanno la facilità estrema della fruizione liquida della musica digitale più il prodotto è curato e materiale diciamo più sembra che ci sia un lavoro alle spalle insomma quindi lavoro sia di produzione che di spedizione che di gestione poi tutta questa frenesia nel far uscire le cose che porta tutto un lavoro di amministrazione che sta alle spalle che comunque è complicato è complicato in virtù del fatto che siamo in pochi con numeri con numeri con numeri alti insomma e e niente insomma queste qua se avete domande altrimenti io non saprei che altro raccontare come gli infatti in un modo di spesso e si allora diciamo che le major sicuramente partono da me cioè io ho un'idea e contatto loro come andare in biblioteca e dire avete disponibile me lo date è possibile farlo dopo c'è tutta la questione del contattare gli artisti perché dopo c'è una grossa confusione legata alle major secondo me perché comunque sono dischi che al tempo sono stati acquisiti comprati quindi comunque l'artista ci ha guadagnato e ci guadagna tuttora per ogni licenza ogni passaggio ogni licenza appunto di vendita dalle major però nel momento in cui la major ti compra il master adesso non ho ben capito i tipi di contratti ma tendenzialmente il contratto di acquisto del master prevede che il master sia proprio dell'universa cioè tu come band non hai più nessun diritto su quel disco lì e quindi spesso questa cosa crea un po' di confusione nel senso che io sento a me piace quando faccio questo tipo di progetti non mi piace tenere all'oscuro la band i progetti quelli il box di CSI Marlene Kunz adesso tutte le ristampe hip hop sono tutti cioè la maggior parte dei dischi hanno ristampe hip hop diversi però tutti i dischi di Universal o comunque di altre etichette nel momento in cui siamo d'accordo io e abbiamo un accordo firmato un contratto firmato io con l'etichetta io sono a posto potrei tranquillamente non conoscere non sentire nemmeno la band buttare cioè pubblicare il disco pagare la stecca pagare il dovuto a Universal io sistemare le mie cose disco uscito finita lì non neanche mai contemplare l'artista e se Universal e se io presento una copertina diversa con che ne so una foto mia in copertina e a Universal va bene lo reputa una cosa che a livello di business non è così compromettente può portare a un successo può farlo adesso non so bene che tipo di contatti però tendenzialmente può farlo però da canto mio io vengo comunque c'è il suono e vengo da so cosa significa fare un disco so che spesso l'artista comunque non è molto legato a queste dinamiche io stesso al tempo non spiego niente di queste cose perché comunque penso a suonare penso a l'idea di fare il disco vuoi che il disco sia stampato non te ne frega più di tanto della promozione non avevo uno spirito di suo grafico spinto diciamo e quindi mi piace e lo faccio sempre l'idea comunque di contattare anche la band e dico guardate ragazzi se vi va c'è questa idea qua e se vi va io ho già fatto l'Universa io lo sono d'accordo quindi è tutto tutto libero se a voi vi va bene la facciamo se a voi non va bene non lo faccio anche se potrei appunto fare veramente quello che voglio questa cosa alle volte aiuta in realtà a creare il bel risultato diciamo un ottimo risultato perché la band si sente comunque non messa da parte si sente parte del progetto si vede in te in noi comunque un aspetto anche amichevole nel senso dire che cerca di coinvolgere chiaramente e rispettoso soprattutto del master dell'artista e aiuta comunque ad andare dopo questo comporta anche altre dinamiche nel senso che magari il manager poi viene fuori con delle pretese che ti mettono i bastoni di fare ruote e dice scelta però cerchiamo di trovare una cerchiamo di contattare tutti però è anche vero che non so magari io pago già tot soldi a Universal non sono io che devo darvi i dischi gratis a voi dovete sentire direttamente loro eh però potresti cioè tutte queste situazioni qua poi la gente comunque spesso la gente non capisce che magari ha fatto solo 500 copie magari ragiona come sui cd quindi magari pensa che poi magari dagli 5 dischi non costa niente in realtà magari non è poi così automatico comunque con Universal di là del fatto di sentire gli artisti direttamente per una questione nostra di filosofia dell'etichetta del cercare di coinvolgere o comunque di rispettare il fatto che al di là del contratto firmato quel disco intellettualmente per noi è comunque sempre dell'opera dell'artista e quindi in quel caso sono io che lo propongo che propongo la major anche perché loro hanno sì convenienza se lo propongo io ma non è un business che loro dicono aspetta che sentiamo se hanno voglia di farlo che magari avete voglia di fare questo o voglia di fare quello cioè se ci sono meglio per loro altrimenti non hanno tempo da cercare nelle titoli o situazioni che mi possono che mi possono affidare e con invece alcune etichette ormai si è creato una sorta di gemellaggio comunque di collaborazione sicura cioè abbastanza solida e quindi non c'è neanche bisogno c'è nel senso vado diretto così come alcune band nel senso il nuovo disco non so alcune band si sa che a meno che uno di due non si tiri indietro la collaborazione è stata comunque comunque andata bene con il disco prima si va senza tanto bisogno quasi anche per scontato tipo mi scrive la band va che abbiamo il disco nuovo in uscita a novembre giusto per avvisarmi sulle tempistiche e io rispondo ok aspetto il master fatemi sapere tenetemi aggiornato non c'è neanche l'idea di ti va di fare o ti va di non fare e mi arrivano comunque anche richieste tipo da alcune da alcuni dischi non parlo di band emergenti che gli mandano i demo quello ce ne sono tanti cioè gli mandano tantissime parlo anche di il manager di questa band che chiama per alcuni sonda se hanno intenzione di magari di stampare del loro disco di cinque anni fa oppure di fare il disco nuovo succede si succede spesso che ci chiedono quindi si diciamo che capita che la maggior parte del lavoro è su fiducia nel senso cioè su un rapporto già prestabilito quindi comunque si sa a meno che non abbiano svolte particolari si sa che il disco esce cioè che il disco nuovo viene fatto con la stessa il stesso connubio etichetta band che c'è stata questa è la maggior parte dei casi con la major sono io a chiedere che le cose mi interessano anche perché comunque hanno un catalogo molto vasto e per loro chiaramente presuppongono che sia io che lavorando appunto nel settore comunque del vinile così sappia quali titoli possono andare quali non andare sarebbe forse magari una parità di tempo per loro prendere il catalogo dirmi vuoi questo vuoi questo vuoi questo senza avere ecco la Sony mi aveva chiesto per Paolo Conte infatti non stiamo prendendo troppo in considerazione per il fatto che è per l'eccessiva reperibilità che ha il disco e dopo rimane il contatto che mi chiamano per propormi delle cose etichette poi sì comunque succede che magari anche appunto arrivo a lavorare con un gruppo che magari tramite che ne so mi contattano loro dico va bene facciamo il disco il disco va bene e allora tipo apriamo la porta su i dischi prima senza sentire facciamo anche i dischi prima ok è molto libera diciamo però su tutte le cose delle ristampe sono sempre io che decido cosa come e capire come chiedere quando perché quello si è proprio una perché appunto oltre a essere difficile la selezione è anche comunque di entrare in quanto con la major e la major non ha né tempo né voglia né interesse nel prendersi in carico la idea della selezione di dischi da affidare potrebbe farlo con i dischi nuovi se avesse cioè se avesse numeri adesso sentivo ma i nuovi di Verden li farlo faranno loro direttamente o come ha fatto con i polo di buio la ridizione delle after hours quindi sì insomma tipo in quei casi lì se la fanno loro era nata per un attimo l'idea appunto che questi qua li affidassero a me tutte queste nuove uscite legate a questo genere però poi chiaramente cioè su queste cose qua non è neanche sempre però o si dimenticano di avvisarmi e magari di venire non esce le facciamo dopo o non hanno intenzione di darmi di darmi cioè non rientra nel loro interesse quindi magari non succede non avviene la collaborazione non si stabilisce la collaborazione oppure aspettano che sia io insomma a chiedere le cose a te è mai capitato di non solo sentirla ben emergente parlare con qualche etichetta per scoprire sì sì ed è una cosa che io ho fatto qualche uscita con mi sono proprio tolto alto l'ospizio di dire in cd in quel periodo iniziale dove ho aperto un attimo la questione i cd per capire meglio come si muoveva il mercato e mi sono preso l'ospizio di provare a lanciare diciamo comunque provare a curare comunque investire su delle band che erano magari erano al secondo disco ma il primo magari era autoprodotto comunque non erano conosciute ed è molto bello cioè è bello perché comunque è una plasmi qualcosa aiuti a concretizzare cioè a livello di prodotto un'idea intellettuale un'idea artistica quindi quello è molto bello e prevede tutta una serie di cose che c'è anche col vinile ma chiaramente in minore percentuale tutta una serie di strategie strategie che possono che devi attuare per cercare di aiutare la band ad emergere quindi può essere perché poi tutte le band comunque capita spesso come dicevo che non hanno assolutamente l'idea loro hanno il disco lo registrano anche bene però magari dopo non hanno l'attenzione a farsi la foto particolare che comunque è tutto connesso purtroppo cioè sono il primo a dire che non dovrebbe essere così ma è tutto connesso cioè adesso l'idea di un disco e la grafica dovrebbe avere anche la foto un po' si c'è un po' correlato adesso ho un'idea anche estetica del disco che fai titolo contenuti estetica adesso tutto bene o male un po' correlato e l'ho fatto mi è piaciuto però purtroppo io ho dei gusti musicali un po' particolari un po' particolari quindi sono trovato a fare una serie di uscite di dischi strumentali e di fare una serie di dischi di roba psicadelica o comunque sperimentale o comunque non molto facile diciamo così che a me piacevano molto e mi sono scontrato che mi sono scontrato col fatto che questo tipo di lavoro sì mi posso permettere delle uscite particolari ma per permettermi quelle uscite ho bisogno di fare altre uscite sicure che magari faccio con meno trasporto passionale cioè a un po' livello di musica magari ci metto di mio più nella cura del prodotto e sono contento dell'ho fatto magari scopro un disco che non mi interessava ma in realtà mi è fatto anche piacere farlo però con i dischi che da zero li ascolto e mi affascino è molto più entusiasmante solo che primo uscire col vinile non è consigliabile a meno che appunto non siano questo è quello che dicevo prima il chitarrista di massimo volume con il chitarrista di after house e un altro musicista di musica sperimentale fanno il disco si buttano fuori la copia limitata del vinile e il digitale è la cosa va bene perché hanno i nomi che comunque sono conosciuti da zero il vinile è abbastanza un suicidio è quasi sicuro che trovo compramo gli amici per farti un piacere forse e quindi era più legata al cd la cosa che non mi entusiasma a fare più di tanto comunque si è proprio questo genere che non è un genere cioè sono i dischi estremamente ben fatti estremamente vendibili però sono dei numeri di vendita italiani nel senso che o si prova a investire tanto all'estero ma lì l'investimento è altissimo è un rischio enorme quasi ci vuole un miracolo perché possa diventare un fenomeno di culto anche perché comunque c'è un po' di pregiudizio soprattutto per i gruppi italiani che cantano inglese c'è comunque un po' di pregiudizio all'estero nel senso non sono così quotati da dire diventano un fenomeno internazionale e quindi anche solo semplicemente in Italia è un investimento anche solo l'ufficio stampa se io prendo un gruppo e gli faccio fare e gli dico di stampo il cd stampare per sé non ha senso cioè ci informi se hanno un po' di date e dici ok le date ce le hanno gli dai le copie a loro speri che le date comunque aumentino però ci vuole un ufficio stampa comunque per poi dei contatti per consacrare un po' il disco contatti noi ne abbiamo potremmo farlo anche noi in ufficio stampa però richiede un grosso impegno che nel momento in cui noi facciamo uscire il cd però abbiamo anche altre tre produzioni in vinile inizia a essere un po' problematica allora ci affidavamo a uffici stampa esterni che che loro chiaramente hanno tantissime richieste ma tantissime richieste di gente che vuole pagare meno non un prezzo pieno perché il prezzo pieno non te lo puoi permettere e chiedono infatti perché chiedono un prezzo che non è sostenibile nel senso se parto con 500 o 1000 copie di un cd più ci aggiungi 1500 euro che può essere o 2000 o quel che hai di un ufficio stampa che lavora bene poi magari ti rigiuri riesce a fare 1000 riesce a fare 900 però che ti faccia girare il nome primo deve andare è brutto da dire ma deve essere deve andare di moda il disco perché comunque se il disco c'è le recensioni ne parlano tutti positivamente però finisce su quelle webzine che sono quei tot webzine dove la gente sempre meno legge le recensioni e poco altro comunque il disco si esiste è conosciuto vende qualcosa ma non è il disco che ti porta a dire io ho avuto un'esperienza con un musicista molto bravo che fa le cose suona tutto da solo non canta tutto strumentale è suonato con i vari loop station oppure va loop station comunque degli strumenti giocattolo con i quali crea dei suoni li manda in loop però non canta quindi lui praticamente gli serve una presa da corrente e lui il concerto lascia farlo è da solo ha un cachet per uscire dedicato cioè calibrato sul fatto che è lui da solo e quindi può suonare ovunque per fare musica quasi cinematografica quasi ambient un po' strumentale molto piacevole quindi può suonare ovunque e lui ha tantissime date cioè ha fatto tantissime date il disco ne ha parlato molto bene non è diventato uno di quei dischi culto diciamo comunque considerati però comunque con lui è riuscito a pagare un po' il tutto con altri cd è molto molto difficile proprio una questione di stampa cioè di promozione cioè far quadrare un po' il tutto i cd che sceglievo io attenzione quindi io sentivo che volevo fare che volevo che volevo che volevo stampare ed è lì che ho detto preferisco per un po' crearmi questa situazione di vinili dove so che ragiono su un'altra dinamica e su un'altra dinamica può vendere vinile o non vendere vinile questo gruppo nonostante sia conosciuto tutto quanto però parto da una base già stabilita io non nego di aver lavorato con dei gruppi che stimo anche come il lavoro che fanno però personalmente mi sono messo un po' in discussione come talent scout discografico diciamo perché ho detto questo qua è un disco che comunque vende migliaia di copie in cd il vinile mi ha finito 500 copie e anche qualcosa di più sono contento ottimo però se io ci sono affezionato questo gruppo perché è già consolidato ha una base comunque solida però se io avessi ricevuto quel disco lì come master cd masterizzato con quella lettera o quell'email o come file quindi tu ascoltalo e questo disco ti va di farlo non l'avrei fatto quindi diciamo che non sono non sono settato su una selezione musicale consona a una discografia redditizia in Italia questo è un po' il mio problema che vabbè non ci soffro mi sta benissimo così però diciamo che è un limite nel senso non saprei quando devo investire qualcosa investo su cose che piacciono a me e non rispecchiano non riuscirei a farlo di se che rispecchiano l'interesse del grande pubblico comunque non dico grande pubblico ma del pubblico come chiamolo così e poi a questo motivo non riesco cioè è un investimento che faccio fatica a fare insomma siamo a posto io vi ringrazio a Gazzetta Amarica e Massa